Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Presidente Gianni ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni in Toscana per centrare l'obiettivo di avere tutta la popolazione della Regione vaccinata entro settembre 2020. È stato presentato il portale della Regione Toscana per le prenotazioni dei vaccini e anche l'informazione sul sistema vaccino in Toscana. Andiamo ad ascoltare il Presidente Gianni ai nostri microfoni proprio su questo importantissimo tema. Devo dire che la capacità organizzativa che la direzione che sotto l'assessore Simone Bezzini guidata da Carlo Tomasini ha messo in piedi è davvero un'organizzazione che ci sta consentendo una vaccinazione che porta ad essere la Toscana appunto di riferimento a livello nazionale. Insieme ho visto a Lazio, il Veneto, ogni giorno ci contendiamo chi ha somministrato più vaccini. Ma è anche importante in questo processo, in questo percorso, che dovrà essere sempre più considerato all'attenzione dei cittadini perché nella seconda fase, da febbraio, non ci saranno i 13 luoghi, i 12 ospedali per la somministrazione. Dovremmo avere gli spazi per una somministrazione di massa che porti, a mio giudizio, l'obiettivo deve essere quando riprende dopo il fermo estivo quello che è il diffondere del virus. Ormai ce ne rendiamo conto. Avremo probabilmente un diradarsi del suo livello di contagio durante il periodo estivo e poi da settembre riprende. Ecco, a settembre noi dovremo avere la Toscana vaccinata. E quindi da qui ad allora avere la possibilità su un portale di seguire costantemente quanti sono i vaccini e poi tutti gli elementi di informazione e di comunicazione è qualcosa di molto importante proprio perché ognuno di noi possa seguire questo percorso con il senso di partecipazione emotiva alla nostra battaglia, alla nostra guerra, al contrasto verso il coronavirus. Devo dire che da un punto di vista dell'eccellenza su sistemi informatici Berardinelli e i tecnici dell'assessorato hanno già dimostrato nel corso del tempo di svolgere delle funzioni importanti, pensate al sistema di pronitazione che nella diffidenza generale poi in realtà ha funzionato benissimo. E quindi per quello che mi riguarda sono orgoglioso del fatto che la Toscana è la prima regione italiana che il sistema di vaccinazione lo propone ai cittadini non solo con i sistemi più agevoli da un punto di vista informatico per la conoscenza ma anche da un punto di vista dell'informazione di quante persone attraverso il portale, lo possiamo conoscere in ogni momento, sono vaccinate e quanti ne mancano per arrivare a una copertura completa. Il giovedì, se voi andate a guardare da un punto di vista statistico da settimane, è sempre il giorno in cui i contagi arrivano a livello maggiore e poi vi è un progressivo calo per poi arrivare al lunedì quando si riscontra la domenica che è il giorno minore e risalire attraverso il martedì e mercoledì al giovedì. Siamo a 600, effettivamente rispetto a diversi giorni che ci hanno portato a 400 c'è un aumento ma mi sembra un aumento sempre gestibile. Sicuramente non siamo a quei livelli che erano i 2.700 che abbiamo toccato nel mese di ottobre e non siamo nemmeno ai 4-5 mila a cui ho visto anche in tempi recenti sono state altre regioni. Certo il segnale non va ignorato, ovvero dobbiamo tenere tutto sotto controllo. Siamo ragionevolmente consapevoli che noi avremo probabilmente dalla settimana prossima la zona gialla, come in questi due giorni, perché l'RT in questi giorni ci porta a pensare che possa rimanere sotto l'uno, però non è definitiva e io non sarò mai uno che cercherà di forzare a tenere sulla zona gialla. Se i dati dei contagi e quelli corrispondenti ai parametri fissati al ministero aumentano, ritorniamo in linea arancione, cioè noi dobbiamo essere sempre punti a prevenire e quindi se vediamo che risale dobbiamo prevedere delle chiusure. Però in questo momento devo dire che questo aumento non pregiudica il fatto che la Toscana la prossima settimana dovrebbe essere zona gialla. L'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana dello scorso anno è stato il momento con i gruppi consigliari per fare il punto sul 2021. Auspici, obiettivi di lavoro nel Consiglio stesso e nelle commissioni da parte dei gruppi e noi andiamo ad ascoltare direttamente dalle voci dei consiglieri coinvolti in queste nostre domande quali sono gli obiettivi principali che le forze politiche del Consiglio regionale della Toscana si pongono per questo 2021. Italia Viva intanto termina il 2020 con dei risultati importanti che ci hanno consentito di portare a casa la discussione sul recovery plan, di portare e di sospendere la discussione rispetto alla modifica dello statuto che non ci trovava a Concordi e vorrà portare avanti discussioni nel merito. Penso a quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica, penso con le risorse da fare sulla sanità, il piano vaccini, accompagnare il percorso sanitario e fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo. Potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra regione e quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto, sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà e a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi. Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire e giocherà una partita a favore dello sviluppo ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli e soprattutto però sarà l'anno nell'ambito del quale ci misureremo rispetto a alcune scelte strategiche, penso al piano dei rifiuti e piano infrastrutturale da realizzare nei prossimi cinque anni. Le priorità per il prossimo anno noi le abbiamo tradotte in atti che discuteremo e voteremo in queste ore. Bonus bebè per tutti i toscani, significa 2000 euro per ogni bambino che nasce per i primi tre anni di vita del figlio. Regione Toscana lo può fare, è un provvedimento che costa meno di 50 milioni di euro, sul bilancio regionale c'è assolutamente spazio. Quando ho governato, quando ho fatto il sindaco, ho fatto questo tipo di provvedimento. Vorrei che diventasse un provvedimento per tutta la Toscana. Priorità per quanto riguarda, l'abbiamo già messo in mozione, lo rimettiamo oggi in un atto collegato al bilancio, investire sugli ospedali periferici perché abbiamo visto come depotenziare gli ospedali periferici di fatto crei problematiche sia ai territori periferici che al centro perché si ingorgano i grandi ospedali. Dopodiché noi pensiamo a un grande piano di manutenzione per l'edilizia popolare residenziale perché comunque gli alloggi sono molto spesso vecchi, hanno bisogno di un intervento importante. Il Consiglio nel 2021 dovrà affrontare molti temi, principalmente i temi della ripartenza e del rilancio dopo le misure restrittive che anche in queste vacanze di Natale, in questo periodo natalizio, hanno messo a dura prova il nostro tessuto economico. Sono già diverse le proposte di legge in analisi che prevedono ristori e contributi ai più diversi settori. Per quanto riguarda l'azione della Commissione Cultura dovremmo anche prevedere una legge strutturale che dia fiato, che dia sostegno a questo delicato settore che ha davvero sofferto per le misure restrittive. I nostri teatri, i nostri cinema, i musei sono chiusi da tempo, sono in forte sofferenza. Qualche segnale di attenzione è arrivato già dai provvedimenti della Giunta regionale, qualcosa farà il Consiglio regionale, l'ha già annunciato il Presidente del Consiglio, Mazzeo, ma molto dovremo lavorare nel corso del prossimo anno per dare davvero strumenti di azione e sostegno vero a chi deve rimettere in pista queste attività e recuperare un anno che è stato davvero difficile. Innanzitutto digitalizzazione. La banda larga è una priorità, ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree. Siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia. Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione e in questo senso bisogna procedere speditamente, così come sta andando l'agenda della Ministra Dadone, che sta facendo un grande lavoro in questa direzione. E bisogna guardare all'ambiente, perché se è vero che la sanità è importante, gestire al meglio l'ambiente, andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori e rendere il Green Deal, quindi il patto per il verde, per l'ambiente, davvero reale, bisogna andare verso un cambio di prospettive. Aspettiamo il piano rifiuti, ad esempio, e il piano amianto e aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda e non venga semplicemente vista come un qualcosa che si deve gestire in qualche modo tra le mille emergenze. Anche lì la Ministra Zolina ha emesso centinaia di milioni per il rinnovo delle scuole, l'edilizia scolastica. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione, pensando appunto, come per il piano resilienza, alle generazioni future. È la nostra ultima chance, probabilmente. Ma allora, noi abbiamo un tessuto economico e produttivo da far ripartire. I ristori, come abbiamo visto, coprono una minima parte di quelle che sono le necessità delle piccole e medie imprese. Questo per noi è fondamentale. Se riparte il tessuto economico, se riparte la produzione, se si crea lavoro, se si affrontano finalmente le crisi aziendali, questa regione ha una prospettiva. Noi non possiamo ragionare sempre con il traino dell'Europa. Noi dobbiamo affrontare le nostre sfide adesso con politiche concrete. Quindi la nostra priorità sarà questa, cercare di, per quanto riguarda ovviamente quello che è il nostro ruolo di opposizione, stimolare interventi sostanziali per la ripresa dell'economia e dell'occupazione. Lunedì 11 gennaio dovrebbe essere il giorno del ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, una ripresa delle lezioni in presenza al 50%. Il condizionale però è d'obbligo perché sul tema della scuola le regioni si sono divise percorrendo ognuna la propria strada. C'è da un lato chi si dichiara pronto a riaprire le aule a partire dal lunedì e dall'altro chi ha prorogato la chiusura con ordinanze ad hoc. Una situazione caotica che rischia di peggiorare con l'arrivo dei dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che potrebbero nuovamente cambiare le carte in tavola dato che alcune regioni potrebbero cambiare colore vedendo salire la loro fascia di rischio. La Toscana continua a lavorare affinché gli studenti possano tornare a seguire le lezioni in sicurezza. La regione del Pegaso si era già dichiarata pronta a ripartire le sette, organizzazione ribadita con tiepido ottimismo anche in vista di lunedì. Noi ovviamente continueremo ad attestarci rispetto alle indicazioni del governo nazionale. Come sapete, come abbiamo detto insieme al Presidente Gianni, insieme agli altri assessori ai trasporti e alla sanità, all'Ufficio Scolastico Regionale, ad Anci e Upi, eravamo pronti grazie anche al lavoro fatto dai tavoli, coordinati dai prefetti per far rientrare anche le ragazze e i ragazzi più grandi in classe già a partire dal sette. Il governo poi ha deciso di far slittare la riapertura a lunedì 11 e quindi noi stiamo lavorando affinché lunedì questo possa avvenire ovviamente in sicurezza. Continuiamo a lavorare su questo, non c'è penso neanche bisogno di dirlo, monitorando costantemente i dati perché vogliamo appunto che questo avvenga in sicurezza perché è necessario tenere insieme due principi e due diritti sanciti anche dalla nostra Costituzione che sono quello alla salute e quello all'istruzione. In Toscana lo abbiamo ripetuto fin dal primo momento. Sappiamo bene quanto la didattica a distanza che si è resa necessaria sicuramente in un momento in cui era doveroso rispettare le restrizioni per bloccare la catena dei contagi e far abbassare la curva, ma sappiamo che la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza, che è ovviamente anche socialità per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. La democrazia in Toscana non si è fermata nonostante il Covid. In soli due mesi si sono svolte 14 sedute d'aula, 32 commissioni, la presenza di circa 99% da parte dei colleghi consiglieri, solo 5 assenze su 560 e sono le presenze complessive. Il presidente Antonio Mazzeo ha illustrato oggi alla stampa il bilancio dei primi mesi della nuova legislatura. Il nuovo Consiglio regionale ha dovuto immediatamente gestire le difficoltà e le emergenze legate al Covid e alla seconda ondata, contrastando i contagi e cercando di supportare l'economia. Guardando al 2021, il presidente Mazzeo parla di un'aula innovativa e digitalizzata, aperta a tutti e capace di entrare nelle case dei toscani. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo del Consiglio regionale il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani. Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale e più digitalizzato d'Italia.